Sono, come potete ben capire, delle riflessioni culte che bisogna pur fare, insomma, io invidio molto un mio amico, un professore di liceo, che insegna in un liceo della capitale, nel quale vengono da varie parti, dal centro, dalla periferia, quindi lui assiste al cambiamento del linguaggio, a come cambia il gergo, come si modifica, e lui ha chiesto un giorno ai suoi allievi di raccontare, ognuno raccontasse una storia, tratta dal mito, dalla mitologia, oppure qualsiasi, purché alla fine raccontassero, dicessero, la morale che se ne trae da questa storia, si alza uno, un otto, carino, il regalo, il regalo dei variologi, allora Davide e Golia, benissimo, la so, bene, racconta, Davide e Golia fanno a duello, ma Davide è un ragazzo, un piccolino, normale, invece Golia è un gigante, invincibile, arrumato fino ai geniti, ma Davide con una fiondata lo uccide, morale, non sempre la forza bruta prevale sull'astuzia e sull'intelligenza me lo dimentichi, c'è nessun altro che vuole far salzankoato, tu che vuoi raccontare? Al cavaliere bianco e al cavaliere nero? Non la so, azo i azo. Al cavaliere bianco e al cavaliere nero fanno a duello, e al cavaliere nero ti ammazza al cavaliere bianco, ma al cavaliere bianco aveva tre figli, questi tre figli sfidano al cavaliere nero, ma al cavaliere nero ti ammazza a tutte e tre, ma questi tre figli avevano tre figli per uno, tutte e nove ti sfidano al cavaliere nero, ma al cavaliere nero ti ammazza a tutte e nove, ma questi nove figli avevano tre figli per uno, tutte e ventisette ti sfidano al cavaliere nero, ma al cavaliere nero ti ammazza a tutte e ventisette, ma questi ventisette figli avevano tre figli, mi dice basta, dimmi la morale, è carcaiere nero, lui è talica carcazza!